I Vescovi italiani hanno scelto la terra di nomi da sottoporre a Papa Francesco per la scelta del nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale di Perugia, Gualtiero Bassetti, Monsignor Francesco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, e il Cardinale Francesco Montenegro, Vescovo di Agrigento. Ora la parola passa a Papa Bergoglio, il quale spetta la nomina del nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.